buongiorno ciao a tutti come state spero stiate tutti bene nonostante questo caldo che è scoppiato in tutta italia mi vedete sfatta con zero trucco perché è davvero impossibile per me in questo periodo truccarmi mi si scioglie tutto quello che ho sulla faccia so che tante amiche nella mia condizione mi sostengono e mi capiscono al cento per cento volevo fare un video sui due unici libri che ho letto in questi mesi è la prima volta che leggo così poco ma è stato un periodo davvero intenso con tante cose da fare con tante idee da realizzare con tanti progetti e quindi ho letto questi due libri in maniera molto 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 dilungata nel tempo e poi fare una chiacchiera con voi se mi è possibile sui libri che ho scelto dalla mia biblioteca cioè libri che sono presenti nei miei scaffali perché mi sono stati regalati o acquistati ma che non ho mai letto e a questo punto mi sono detta perché devo andare in biblioteca prendili dalla tua biblioteca personale spero come vi ho detto prima che tutto vada bene anche per voi qui nel fronte casa di eli tutto bene anche se è un periodo come vi ho detto molto molto impegnativo e che mi sottrae il tempo ovviamente per i video di youtube anzi mi scuso in anteprima per tutti gli amici youtubers che non mi vedono più a prodare sui loro canali ma mi è davvero impossibile in termini di tempo non riesco a vedere un video se non di pochi minuti e sarà così penso fino a fine agosto quindi recupererò nel senso che sicuramente ho voglia di ascoltarvi e di guardarvi ma mi è davvero quasi impossibile in più la rinella che è la mia mamma e che alcuni di voi conoscono è caduta ieri sera e quindi sono dovuta andare su di corsa per fortuna nulla di rotto una grossa botta ma anche qui mi fa capire che devo un attimo allentare la corda sulle cose intorno che mi fanno tra virgolette perdere del tempo che non è perdere lo sapete che per me guardare i video o comunque seguirvi non è perdere del tempo ma alcune volte è davvero impossibile conciliare tutto quello che è vita vera nel senso vita di tutti i giorni con lavoro famiglia impegni in parrocchia per me ovviamente con quello che invece sono le mie passioni ecco le mie passioni alcune volte rimangono rimangono lì e vado a prenderle quando quando ho veramente il tempo anche per godermele perché altrimenti penso non sia assolutamente interessante che io metta un commento solo perché devo mettere un commento a me piace guardare il video piace mettere i commenti perché ho ascoltato quello che è stato detto ecco quindi l'estate è davvero per me un po così ma veniamo ai due soli libri che ho letto in questo periodo lunghissimo non sono più riuscita neanche ad andare al gruppo di lettura perché le riunioni del gruppo di lettura erano mannaggia a me sempre quando c'era la riunione mensile del delle catechiste in parrocchia e siccome io ci tengo molto ad incontrarmi con le altre catechiste e con i sacerdoti perché è un momento di scambio molto interessante e che serve a me per diventare una persona migliore tra le due cose ho scelto le riunioni di catechismo e quindi spero di riuscire a recuperare a settembre ancora il gruppo di lettura in biblioteca perché era una cosa che mi piaceva davvero molto era molto interessante il libro che era stato consigliato dal gruppo di lettura è un po devastato a dire la verità sebastiano vassalli la chimera io non so se qualcuno di voi lo conosca se questo autore è un autore famoso questo libro penso sia stato preda di qualche studente perché ci sono delle annotazioni da parte e questa cosa mi ha dato un po fastidio ve lo dico chiaro e tondo non mi piace chi sottolinea chi mette da parte delle note perché poi mi invita a leggere le note e quindi comunque a dare un'opinione diversa da quella che magari avrei dato io un libro che mi è piaciuto tantissimo un autore che ho apprezzato tantissimo di cosa parla adesso ve lo leggo perché secondo me è anche un segno io andrò in vacanza proprio nei luoghi dove è stato raccogli in vacanza rifaccio io andrò a cucinare per il gruppo adolescenti e giovani proprio nelle zone in cui è ambientato questo libro anche se questo paese non esiste più e adesso vi leggo zardino non esiste più era un tempo un villaggio sulle rime del fiume sesia cancellato da un evento misterioso oltre quel nulla d'oggi c'è la storia di una ragazza antonia che visse tra il 1590 e il 1610 c'è un teatrino di figure che si muovono attorno a lei e lei che fu la strega di zardino che subì a novara un processo e una condanna dalla nebbia riemergono come ombre in controluce il vescovo bascapè realmente esistito il bandito caccetta il boia bernardo sasso il canonico cabagna gli schiavi delle risaie i bambini abbandonati e destinati a una vita di umiliazioni nelle case di carità i camminanti anarchici delle campagne viaggio lo scemo infine da questa giostra ora malinconica ora terribile come una roulette russa si staglia un orizzonte ampio e nitido una cartolina dai colori scintillanti al cui fondo si innalza come una chimera un colosso di granito e di ghiaccio il monte rosa allora un romanzo ambientato su una storia realmente accaduta e su fatti realmente accaduti in queste zone zona di novara domodossola valimagna dove io andrò a cucinare con i ragazzi questo romanzo mi ha molto affascinato perché è ambientato appunto nei luoghi in cui io andrò a fare la cuoca come volontaria per il gruppo delle adolescenti che andrà in vacanza e soprattutto perché è una zona che io conosco abbastanza bene ho passato parte della mia infanzia in un paesino anzi non è neanche un paesino diciamo che sono quattro case in croce che sopra domodossola perché lo zio di mio papà aveva lì una piccola casetta e noi andavamo a trovarlo d'estate quindi stavo là un mese due mesi insieme ai miei genitori e ho potuto vivere effettivamente la tipologia di pensiero che c'è ancora nelle valli di montagna quindi una pensiero molto chiuso non aperto alle persone diverse da noi non aperto al pensiero diverso dal nostro molto giudicante come effettivamente la storia che è raccontata in questo romanzo storico che comunque si basa su fatti realmente accaduti la storia che c'è raccolta in queste pagine mi ha colpito tantissimo mi è piaciuta molto è una storia molto dura e ve la racconto veramente in pochissime parole sapete che non mi piace mai dire troppo di un libro e di un romanzo perché non voglio svelare il bello che c'è nelle pagine qui parla di Antonia che è una bambina all'inizio che viene diciamo adottata per usare un termine dei giorni nostri da una famiglia contadina che abitava proprio a zardino questo paese che c'è nelle valli sopra domodossola sopra novara viene adottata da in questi chiamiamoli collegi dove c'erano queste bambine questi bambini abbandonati nati da magari situazioni non comuni figli di preti figli di vescovi figli di persone nobili che non volevano riconoscere queste nascite questi bambini e che vengono quindi abbandonati e date alle cure da queste a queste suore che veramente speriamo non esista più nulla nulla che ricordi la cattiveria e la rigidità di queste persone questa ragazzina viene presa in affido adottata da questa famiglia che li vuole bene proprio come se fosse una figlia tenete conto che chi andava a scegliere i bambini in questi collegi in queste case di accoglienza li andava a scegliere soltanto ed esclusivamente per farli lavorare come dei muli perché potessero essere d'aiuto alla famiglia a livello fisico a livello di fatica questa famiglia invece la ama gli vuole bene come se fosse una figlia questa ragazza però è troppo bella il suo problema è che è troppo bella ed è troppo diversa dalle persone che normalmente si incontrano nel paese ha dei caratteri somatici magari non propriamente italiani e quindi cosa succede in breve succede che si innamora di un camminante che è una persona che ai tempi 1500 1600 andava a cercare persone volontari che erano disperati persone disperate che lavoravano nelle risaie per raccogliere il riso era un lavoro faticoso era un lavoro inumano e davanti a questa storia d'amore che cosa succede succede che lei viene taggata come se fosse una strega perché usciva di notte per incontrarsi con il suo amato e quindi il passaparola ignorante delle persone che facevano parte di questo paese la descrive come una strega perché faceva delle cose diverse da quelle che facevano tutti non era una donna che si voleva sposare non era una donna una ragazza che voleva dedicarsi magari alla casa alle faccende era una donna una ragazza che si sentiva libera e quindi viene condannata come se fosse una strega cosa che non era viene processata e in tutto questo passaggio storico di eventi c'è poi appunto la conoscenza di questo bascapè che era il vescovo di novara che era stato mandato a novara per punizione lui pensava di fare una carriera ecclesiastica a roma ma per varie vicissitudini viene invece esiliato nella diocesi di novara che non era molto amata e quindi da un passaggio all'altro di pensieri negativi ignoranza proprio delle persone questa ragazza alla fine viene bruciata viva come se fosse una strega perché mi è piaciuto questo libro mi è piaciuto perché mi ha fatto riflettere molto come anche ai giorni nostri ci fidiamo di quello che ci dice la gente ci fidiamo delle parole brutte delle parole che giudicano delle parole che rivestono di male lingue le persone che ci sono intorno a noi di qualsiasi etnea di qualsiasi religione di qualsiasi pensiero e questo mi ha fatto davvero fare una riflessione molto profonda ed è anche per quello che ci ho messo un po a finire di leggerlo perché nulla è cambiato dal 1500 ad ora quante volte noi ci lasciamo affascinare da quello che ci dice il nostro vicino la nostra amica le persone della parrocchia le persone al lavoro giudicando senza assolutamente avere nessun tipo di cognizione di causa di quello che l'altra persona ha vissuto ha provato ha passato cioè noi giudichiamo siamo bravissimi a giudicare e penso la nostra dote migliore che è veramente una dote bruttissima e questo mi ha fatto capire che prima di poter capire cosa c'è dietro una persona qual è il suo vissuto quali sono le cose che lei ha passato quali sono le cose che lei ha condiviso bisogna conoscerla proprio bene non si può giudicare una persona soltanto da come ci appare questo libro è secondo me un libro capisco che penso sia stato appunto preso come spunto da qualche insegnante molto in gamba che lo ha dato come libro di riflessione o comunque di lettura in una classe superiore penso ecco mi è piaciuto mi è piaciuto molto perché perché ci fa capire quanto siamo piccoli quanto siamo poveri di animo di spirito di amore di rispetto verso l'altra persona di accoglienza cioè tutto questo mi ha davvero colpito tantissimo e mi ha fatto riflettere molto quindi io ve lo consiglio è un libro che comunque alla fine finisce male perché antonia viene bruciata come se fosse una strega al rogo nel suo paese ma che ci fa scontrare con quello che sono i nostri pregiudizi con quello che sono i nostri giudizi con quello che sono le nostre con quello che sono i nostri difetti con quello che sono i nostri limiti e questo ci deve assolutamente far capire che la nostra mente deve essere aperta la nostra mente deve essere accogliente attenzione non sto parlando di fede che qualcuno probabilmente dirà è già tu e li fai alla svelta dici sempre di credere no no non c'entra assolutamente con la fede c'entra con il fatto che ogni essere umano deve essere rispettato accolto e amato per quello che è perché è un uomo è un libro che mi ha fatto fare un percorso interiore davvero molto profondo e mi è piaciuto tantissimo e mi è servito davvero davvero tantissimo quindi anche se ne ho letti soltanto due questo libro io ve lo consiglio sebastiano vassalli la chimera perché poi attenzione passaparola fanno grandi disastri cioè compiono davvero delle cose bruttissime secondo libro atlante di botanica profumata jean claude e lena un libro che ho letto pian pianino me lo sono proprio gustato allora questo libro parla di un naso molto importante naso esclusivo di ermessa per 14 anni dal 2018 jean claude e lena è un creatore indipendente di fragranze è un libro molto piacevole innanzitutto accompagnato da delle tavole pittoriche molto belle molto belle molto particolari molto colorate dove ogni ingrediente i facciuli piuttosto che la violetta piuttosto che gli agrumi piuttosto che i fiori il gelsomino la rosa viene descritto in in una maniera molto personale cioè viene proprio descritto da jean claude lena rapportato alla sua storia di naso profumiere cioè ci racconta cosa ha scoperto lui nella violetta cosa ha sentito lui nella violetta comunque in quella nota particolare dove l'ha riprodotta dove l'ha utilizzata nei vari profumi un libro che ci racconta anche le emozioni del dello scrittore dell'autore in base proprio alla nota che viene utilizzata in profumeria o in alcuni particolari profumi che lui ha creato un libro davvero molto bello io ne leggevo un capitolo uno ogni sera o uno ogni due sere o anche uno alla settimana ma è stato davvero molto piacevole molto interessante e istruttivo ovviamente per me che sono assolutamente ignorante in questo campo scoprire diciamo la storia da dove proviene quel fiore da dove proviene quella nota che viene utilizzata in profumeria e anche perché è stata particolare per l'autore un libro che vi consiglio caldamente soprattutto se come me siete appassionati di profumi e volete scoprire qualcosina di più ora veniamo ai libri che mi piacerebbe leggere in questo periodo ed ora qui io so che si scatenerà il finimondo perché appena vi farò vedere la copertina direte ma come eli non lo hai mai letto no non l'ho mai letto 5 secondi di silenzio il piccolo principe non ho mai letto il piccolo principe ma penso che all'età di 53 anni sia arrivato il momento di scoprire questa meraviglia perché non ho mai letto il piccolo principe perché ho sempre pensato di non essere all'altezza di questo tesoro di questo libro meraviglioso l'ho sempre considerato un libro per adulti un libro che se lo leggi ti trasforma un libro che in ogni pagina ti regala comunque una lezione di vita questo libro ce l'ho in casa da da anni nel senso che è un libro che ovviamente alcuni professori hanno consigliato ai miei figli io non ero d'accordo perché secondo me la mente di un ragazzo giovane che comunque è così entusiasta della vita è così pronto a vincere il mondo è così diciamo pronto ad essere invincibile non capisce appieno il vero significato del piccolo principe ma perché ho deciso di cominciare a leggerlo o comunque di provarci perché quest'anno ho avuto a che fare in alcuni incontri sia a livello di fede ma anche non leggendo alcune frasi che erano riportate dal piccolo principe e mi sono accorta che adesso erano adatte al mio modo di pensare erano giuste per me in questo momento erano interessanti perché potevano essere uno spunto interessante di riflessione va di una riflessione che mi faceva crescere di una riflessione che mi sarebbe potuta essere di una riflessione che mi avrebbe aiutato a crescere come persona e non soltanto leggendolo come un romanzo e quindi ho deciso quest'estate di leggerlo e sono sicura che ci saranno davvero tantissime cose che poi potrò condividere con voi. Altro libro che ho deciso di pescare dalla mia biblioteca e di leggere quindi di non andare a cercare in chissà quale luogo libri interessanti da leggere è questo di di Lucinda Rilley, Delitti a Flat House penso che Lucinda Rilley, Ralli, non so neanche come si dice vabbè lo sapete che io sono un po' paesanotta questo libro me l'ha regalato mia cognata al compleanno e non l'ho appositamente iniziato perché lo volevo leggere d'estate dove ho più tempo, dove ho anche più ore da dedicare alla lettura è un libro uscito dopo la sua morte lei ha lasciato tutto lo scritto e poi se non ho capito male deve essere stato il figlio che ha pubblicato dopo la morte dell'autrice questo romanzo è un romanzo giallo e so già che mi piacerà tantissimo un austero college inglese morti misteriose e segreti sepolti dal tempo il nuovo romanzo inedito di Lucinda Rilley una morte che può essere stata accidentale possiamo quasi sopportarla ma due, due è pericoloso penso che sia un'autrice nota a tantissimi di voi e quindi questo lo vorrò leggere altro libro che ho pescato profumo di spezie proibite qui siamo a che fare con le spezie in cucina ma come tanti di noi sanno e come anch'io ho sperimentato le spezie e le ricette di cucina ci riportano a momenti belli o brutti vissuti, condivisi ci regalano dei ricordi perché hanno dei profumi perché queste spezie e questi profumi hanno regalato a noi delle sensazioni e dei ricordi perché comunque il cucinare ed utilizzare degli ingredienti molte volte ci fa rivivere il momento in cui per la prima volta abbiamo assaggiato quella spezia per la prima volta abbiamo provato quell'ingrediente le persone che erano con noi cosa è successo in quel momento e quindi questo libro penso sia un libro davvero molto interessante un romanzo molto nelle mie corde pria basil profumo di spezie proibite e anche questo lo vorrei leggere ultimo libro che ho pescato dai miei scaffali la mia vita fatta in casa e anche qua ci sono delle mele e qua dietro di questa autrice Molly Wizenberg non so da quanti anni io ce l'abbia nello scaffale ma prima o poi arriva il momento di leggere tutto quello che c'è qui intorno a me a tavola sono sempre con noi i nostri padri e le nostre madri ma anche tutti i pasti che abbiamo consumato in passato il cibo non è solo cibo è anche un modo per capire altre cose chi siamo, chi siamo stati e chi vogliamo essere non vi leggo di più perché non voglio annoiarvi fa veramente troppo 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 caldo e lo vedete dalla mia faccia e dal mio essere io sono particolarmente sofferente e ve lo dico non scherzando ma su serio questo caldo mi dà troppo fastidio il pensiero che devo arrivare fino a metà agosto prima di andare in vacanza mi fa star male non vedo l'ora di andare proprio nelle valli raccontate in questo romanzo sono andata l'altro giorno a vedere la casa una casa meravigliosa ragazzi una casa spettacolare dell'inizio del novecento dove la cucina è ancora nelle parti basse della casa dove c'è un portavivante dell'ottocento che trasporterà quello che noi cucineremo una cucina molto fresca con delle piotte lastre io dico piotte in maniera dialettale delle lastre di sasso come pavimento soffitti molto bassi freschissima perché i muri della casa sono davvero molto spessi e mantengono il fresco e so che sarà sicuramente un'esperienza a livello fisico molto faticosa perché l'ho vissuta l'anno scorso ed è sicuramente una tipologia di vacanza che non è una vacanza ma so già che ritornerò rinata da questa esperienza è stato anche quest'anno un'occasione che mi è stata offerta che io ho preso al volo e che spero mi regali davvero tanto come quella dell'anno scorso stare insieme ai ragazzi per me è fonte di vita fonte di energia fonte di entusiasmo è così bello poter condividere questo tipo di esperienza con i nostri ragazzi io penso che solo a livello di gratitudine per quello che è stato fatto per i miei ragazzi che ormai sono grandi in qualche modo io debba ricambiare con quello che riesco a fare con quello che posso fare con quello che sono capace di regalare ecco sicuramente ci saranno delle cene o dei pranzi che non saranno da 5 stelle ma mi auguro davvero che questi momenti di condivisione possano essere ricordati da questi giovani ragazzi questi adolescenti e questi giovani come io ricordo con gratitudine quello che è stato fatto per me ai tempi della mia adolescenza ai tempi dei miei campeggi ai tempi dei miei campi d'oratorio ecco io ho ancora ben presente tutte le persone che si sono dedicate a noi con amore con sacrificio e con entusiasmo mai stanchi sempre contenti scherzosi sono delle persone che sono state di fondamentale importanza per la mia vita e per la mia crescita e spero ecco di poter fare qualcosa anch'io per i giovani che ci sono adesso nella nostra nella nostra parrocchia e dopo questa chiacchierata che poi va anche un po' nell'emozione e nella melanconia come diceva una mia cara catechista io vi saluto vi auguro una buona continuazione di estate spero che riusciamo a rivederci presto con un nuovo video su magari la skin care estiva adatta a noi donne di una certa età e con i prossimi lavori che sto terminando a livello di punto croce maglia e uncinetto ecco io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua vi abbraccio vi mando tanti baci e vi auguro una buona estate ciao ciao